Noi siamo più soli, cioè chi nasce in Italia è cittadino in Italia, e la cittadinanza viene data dopo 5 anni. Perché deve amare il paese, l'Italia deve essere amata, e per essere amata deve essere accogliata, e l'amore viene dentro la legalità. E un figlio che nasce in Italia deve essere riconosciuto.